Il sindaco di Agropoli mi critica in quanto avrei incautamente affermato che l'autovelox posto dal comune di Agropoli al chilometro 103 e più 550 della strada cilentana è privo dell'autorizzazione dell'ANAS e le sue multe sono illegittime. È mia abitudine documentarmi prima di parlare. È chiara la risposta fornita dall'ANAS a uno degli innumerevoli utenti colpiti dalle salate multe, occultandone il nome nel rispetto della normativa che garantisce la privacy, come rappresentato nella foto pubblicata nei commenti. A scrivere il senatore Francesco Castiello in risposta al comunicato stampa di alcuni giorni fa del primo cittadino di Agropoli ad Amocoppola riguardo la validità dell'autovelox. A tutt'oggi, continua Castiello, l'ANAS non ha preso alcuna decisione, non essendo stato ancora eseguito il sopralluogo che dovrà essere realizzato con l'intervento dei rappresentanti del comune di Agropoli e dell'ANAS stessa. L'animosità con il quale il sindaco di Agropoli difende il suo autovelox fino a negare l'evidenza documentale rende legittimo il dubbio che tale apparecchio operi soprattutto a vantaggio delle casse comunali, aiutando a risolvere problemi di bilancio. Sarebbe utile, rimarca Castiello, controllare il bilancio di previsione per riscontrare le entità delle somme che il comune conta di incassare per merito del mitico apparecchio, produttore di cospicue e provvide entrate. Ma sarebbe anche utile ascoltare cosa ne pensano i numerosi pendolari che transitano per la Cilentana per esigenze di lavoro, i quali, dimenticando per un attimo di tenere gli occhi incollati sul contachilometri e superando, pur solo di qualche chilometro, il limite di velocità, si vedono notificare salatissime multe nelle quali si disperde gran parte del proprio salario. Al Catasto Terreni, l'autovelox risulta a insistere sulla particella 600 del foglio 16 del comune di Agropoli, attualmente intestata ad un privato, la stessa ANAS, in occasione della richiesta di acquisizione documentale trasmessa alla provincia di Salerno, ha verificato che non sono individuabili i confini catastali del tracciato stradale, pertanto dovrà caricarsi anche della questione relativa all'accatastamento e al frazionamento non attuato dal precedente gestore. Le distanze, che cita il sindaco Coppola, non risultano allo Stato riscontrabili. Appare superfluo quindi sottolineare che la proprietà vantata dal comune di Agropoli in merito all'autovelox, attualmente posizionato su particella intestata a un privato, è oggetto di affermazione che appare insostenibile. L'autovelox, così come tutta la segnaletica verticale e orizzontale, dovranno rispettare per forma e sostanza tutte le norme del nuovo codice della strada e del codice civile, che dettano cogenti prescrizioni circa le modalità di installazione delle apparecchiature utili alla sicurezza stradale. Per ciò che attiene inoltre alle distanze minime e alla tolleranza rispetto al limite di velocità, bisognerà osservare l'obbligo di adeguato anticipo della segnalazione dell'autovelox rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento. Inoltre occorrerà mettere in sicurezza la barriera che protegge gli automobilisti da eventuali impatti col palo di sostegno dell'autovelox, quella attuale fuori legge, sottolinea Castiello. Per ciò che riguarda invece la direttiva Minniti, citata dal sindaco, andrebbe ricordato che l'autovelox, prima di essere messo in uso, occorre che sia omologato o è tarato. La taratura deve essere effettuata almeno una volta all'anno, come previsto dal libretto di istruzioni dell'apparecchio, di cui sto acquisendo riscontro documentale. Infine, alla taratura segue la verifica di funzionalità, che va eseguita anche dall'organo di polizia, prima dell'uso su strada. Quel che più conta, conclude il senatore, è che sempre secondo la direttiva Minniti, l'autovelox non può essere utilizzato per uso distorto, qual è quello di fare cassa.